Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Ande Ercel perdona suo padre. Fotografia del presunto padre di Ande Ercel, Kaia Ercel, che non ha parlato. Si scopre che non si sa molto di lui da anni. Coloro che vedono il padre di Ercel. Il padre, che da molti anni non condivideva nulla di suo padre, era scioccato. Chi lo vedeva lo chiamava gemello di suo padre. Ande Ercel, che ha perso sua madre Aileen Ercel nel 2019, è rimasta scioccata. Morte di sua madre. Il padre di Ande Ercel, che esprime costantemente il suo desiderio. Era anche una fonte di curiosità per sua madre. Padre e figlia che si dice si siano feriti a vicenda. Ci incontriamo per la prima volta da anni. Chi ha visto non poteva nascondersi. La loro sorpresa. Ande Ercel, che ha perso sua madre. Il cancro di suo nipote, Mavi, ancora una volta lo colpì profondamente. Il fatto che anche Mavi abbia questa malattia è cambiato. Ha perdonato suo padre per la visione della vita di Ande e perché non voleva più vivere con i sogni. Ercel, che sta aspettando il recupero di Mavi, le cui cure continuano, ha condiviso il suo post. Ercel della famiglia Ande ha condiviso questa volta con suo padre Ercel. Suo padre, che ha nascosto a tutti, mette fine alla sua rabbia per la prima volta. Presumibilmente, padre e figlia non si vedevano da anni. Ercel, che ha messo l'ultimo punto. Desideroso di suo padre, è stato visto per la prima volta accanto a Kai Ercel. È chiaro dalla foto che Ande assomiglia a suo padre. Pensi che Ande Ercel assomigli a sua madre o suo padre? Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.